Sicuramente serve, da quello che ho potuto capire parlando con i tecnici, in tutte le situazioni dove ci sono materiali lapide e quindi pietra, perché è estremamente efficace e anche molto delicata nell'intervento questa tecnologia. L'avete acquistato con mezzo? No, per ora è una sperimentazione che facciamo di comune accordo con la ditta, dopo di che vedremo, guardarsi anche che sia opportuno avvalersi di loro oppure addirittura acquisirlo come mezzo per il nostro cantiere.